I domestici sono tre più a rischio infortunio, come dimostrano gli ultimi dati resi noti dall'Associazione Mutilati e Inabili al Lavoro. Sono in Sicilia, le casalinghe in Sicilia sono quasi un milione, un settimo del totale nazionale. I dettagli con Antonio Sanzonetti. Sono faccende pericolose i lavori domestici. Così si intitola uno studio dell'ANMIL, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, che ha un focus particolare sulle donne che si dedicano alle mansioni casalinghe, anche se sono in costante aumento gli uomini. E sarà presentato a Palermo proprio nella giornata dell'8 marzo. In Sicilia sono 918 mila le donne che si dichiarano casalinghe, età media intorno alla sessantina, medio-basso il livello di istruzione. E come nel resto d'Italia, una scarsa tutela in caso di infortunio. Sono 7 milioni le persone casalinghe che rischiano tutti i giorni di avere un infortunio grave o meno grave. Però l'INAE deve intervenire a pagare questi temi uguali per tutti. Non ci sono infortuni e morti sul lavoro di serie A e infortuni e morti sul lavoro di serie B. E rispetto a chi lavora in fabbrica o nei servizi, a chi si dedica alle faccende di casa, manca una consapevolezza dei propri diritti. Noi diciamo che fa lavori domestici bisogna avere fatto tipo un corso professionale, un corso di formazione. L'invito è anche quello di stipulare la cosiddetta assicurazione casalinghe. Non costa tanto, così tanto assicurarsi. Basta fare un bollettino o con i patronati, oppure da sole, prendere il bollettino con i patronati e fare un conversamento di 24 euro e sono assicurati per tutto l'anno.